Il popolo dei percettori del reddito di cittadinanza è sceso in piazza a Palermo ieri per difendere il sussidio sociale introdotto dall'ex governo guidato da Giuseppe Conte. La protesta era stata annunciata il 23 novembre scorso durante una conferenza stampa nella quale gli organizzatori lamentavano la mancanza di solidarietà nei confronti dei percettori del reddito da parte del neoesecutivo guidato da Giorgia Meloni. A Palermo i percettori del reddito sono circa 60.000 e in Sicilia quasi 230.000. I manifestanti sono partiti da Piazza Marina per risalire poi corso Vittorio Emanuele e giungere in Piazza Indipendenza davanti alla sede della Presidenza della Regione Siciliana dove alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dall'assessore alla famiglia e alle politiche sociali Nuccia Albano. È un problema che stanno già per affrontare a livello del governo centrale e tratteranno successivamente. Noi certamente ci faremo carico delle stanze di questi soggetti che certamente non navigano nel loro. Logicamente questa misura ha aiutato tanto le persone in stato di indigenza perché abbiamo attraversato un periodo di pandemia e quindi è stata veramente una misura positiva. L'assessorato al lavoro si farà carico di fare un tavolo tecnico con le imprese per verificare quali sono le maestranze più richieste di cui loro hanno necessità in maniera tale di portare avanti dei corsi di formazione e di apprendistato e poter dare un lavoro dignitoso a queste persone che oggi vivono con il reddito.